Ciao, il mio nome è Simone e voglio raccontare qualcosa del Risorgimento. Il Risorgimento era un periodo storico importante nella storia italiana, perché era una sorta di rivoluzione dell'italiano nazionale. Il Risorgimento cominciò nel 1820 e terminò nel 1861 con l'italiano Unificazione dell'italiano. Da 1820, prima della prima guerra dell'independenza, questa era la situazione territoriale dell'italiano territorio. C'erano 4 principali regole, che erano il Regno Sardiniano, il Regno Veneto Lombardo, occupato da parte dell'armi austriano, il Regno dei due Sicilii, occupato da parte dell'armi spana, e il Stato Vaticano, governato da parte del popolo. e dal 1820 al 1840, c'erano molte rivoluzioni e insurrezioni nelle città italiane. Le più importanti rivoluzioni erano l'insurrezione di Venice e Milano. Il Regno Charles Albert deciso di dichiarare la guerra contro l'armi austriano perché le rivoluzioni prima della prima guerra dell'independenza ha causato molte rivoluzioni. Quindi, deciso di mandare il Regno Sardiniano per aiutare l'italiano a combattere la guerra dell'armi austriano. questa era la situazione del Regno Veneto Lombardo e della prima guerra dell'independenza nel 1848. il Regno Sardiniano 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 compilano l'armi austriano per rivoluzione per rivoluzione le loro truppe in un'area fortificata chiamata il Quadrilatero dilimitato da quattro città Peschiera Legnago Mantova e Verona in questo quadrilatero l'armi austriano combattono un'importante battaglia contro la guerra dell'armi Sardiniano e hanno avuto la battaglia di Gustosa questa battaglia ha causato la rivoluzione delle truppe di Sardiniano e il Reino Charles Albert era compilato a signare un'armistice questa è una foto della battaglia di Novara e dopo la prima guerra dell'independenza in marzo 1849 Vittorio Emanuele II diventò il re e cercano di combattere ancora la occupazione austriana quindi c'era un'altra guerra contro l'armi austriana ma il Reino Sardiniano ha perduto questa guerra e in 1849 le francese e le austriano decidi difendere il stato vaticano stato vaticano a Roma la capitale del stato vaticano c'erano alcune rivoluzioni e quindi le francese difendero il popolo era Pius VI e il più famoso il prodotto della Repubblica era Garibaldi che cercano combattere contra le francese ma in questa guerra Goffredo Mamelli il scritto dell'antema italiana morta e questo era simbolo delle rivoluzioni italiane italiane della guerra dell'independenza Camillo Benzo decidi prendere parte della guerra della della guerra in 1843 e questa guerra comprensla l'area vicino del Mar era importante per l'unificazione italiana ma in questa guerra Camillo Benzo diventò amore di Napoleone III il re francese e quindi hanno stipulato alcuni trattori e nel 1859 c'era la seconda guerra dell'independenza che era molto importante per l'unificazione italiana italiana perché in questa guerra i francesi aiutano i sardini comuni e comprensli alcuni dei territori del Veneto Lombardo questo è una foto della guerra che era molto importante per la seconda guerra dell'independenza e questa era la situazione dopo la seconda guerra dell'independenza il Sardiniano expande il territorio con alcuni del Veneto Lombardo territori e dopo la seconda guerra dell'independenza l'unico che non non parte in queste war dove erano il vaticano e il kingdom dei due sessili Giuseppe Garibaldi l'importante protagonista del Risorgimento ha deciso di enviarci un expedito nel territorio italiano con circa 1000 soldati che chiamavano la 1000 expedizione questo è tipico uniforme del Garibaldi che è il nome della 1000 expedizione e questi sono alcuni passi che dicono la expedizione di quarta in Liguria e e i 1000 fanno a Sicilia in Marsala e in cominciano combattere la occupazione con molte battole in particolare in Sicilia l'isla la più famosa era la Calatafini e Garibaldi compara tutti i kingdom e arriva a Teano in Teano il king del sardinio decide per stop la expedizione e in 1861 l'italiano era unificato e i protagonisti del risorgimento erano Garibaldi un importante general delle italiane truppe e e questa era la situazione dopo la expedizione l'italiano compresa tutti i territori italiani ma il stato vaticano che include la città roma era in attivano in l'italiano kingdom solo dopo 10 anni in 1871 l'italiano 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 un nuovo l'italiano europeo perché l'italiano più importante l'italiano 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 e questo è Camino Benzo, il conto di Cavour, probabilmente il più importante politiziano della storia italiana. Questo era Goffredo Mamello, il ritmo italiano. Questo è Michele Novaro, che collaborava con il ritmo italiano. Questi sono alcuni stampi del Risorgimento, e questo è un'importante stampa, perché la storia include tutti i 4 più importanti. Il reto dell'Italia, Vittorio Immanuel II, Giuseppe Garibaldi, Camino Benzo di Cavour e Giuseppe Mazzini. Questi sono i stampi dell'expedizione media. E questo è il simbolo dell'anniversario dell'Italia. La presentazione è finita, spero che avete piaciuto. E spero che vi raccontate qualcosa di nuovo sul Risorgimento.